E vedete siamo nel box di José María López e se vi ricordate nell'ultima gara di Santiago del Cile è andato a muro ed è andato a muro perché ha subito una toccata diciamo così di San Bern e qui vedete nella parte sinistra della vettura la marca della gomma della vettura di San Bern che evidentemente non è stato molto tenero per colpire in questo modo la macchina di José María López e invece se passiamo dall'altra parte mentre il nostro cameraman Daniele Drago ci mostra le fiancate di questa vettura potete vedere come si è ridotta la fiancata dopo lo scontro contro il muro del circuito di Santiago del Cile